La perfezione del modello statico, la potenza, la velocità e la grinta del modello dinamico. F2007RC, un nuovo capolavoro per la prima volta in scala 1 a 7. Un telaio, due carrozzerie, una da competizione per scendere in pista, una da esposizione. Soluzioni tecnologiche innovative per il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità. Dal nuovo potente motore al cambio a due velocità. Dall'efficiente trasmissione cardanica al sistema di sospensioni push-road. La tua F2007RC non teme confronti. L'esperienza De Agostini e la tecnologia Chioscio hanno creato un nuovo riferimento nel mondo del radiocomando. La F2007RC. Materiali d'avanguardia e una raffinata tecnologia per unire perfezione estetica e prestazioni eccezionali. Body da esposizione. Curato in ogni minimo dettaglio, forma, colore e decals, conferisce al modello uno straordinario realismo. Motore esclusivo. Il potente Chioscio GX21 da 3,46 cm³ con avviamento a strappo, fornito in componenti da assemblare, è dotato di una splendida testata aerodinamica appositamente studiata per favorirne il raffreddamento. Cambio a due velocità. Sospensioni push-road anteriori e posteriori. Le coppie di ammortizzatori idraulici ad olio sono disposte in orizzontale, come nella monoposto reale, per ottenere le massime prestazioni e una perfetta stabilità in pista. Le schede dei fascicoli ti mostreranno con illustrazioni dettagliate e con precise istruzioni come assemblare i componenti forniti nelle 100 uscite dell'opera. Proverai inoltre tutte le informazioni necessarie per imparare a pilotare il tuo modello. La rubrica Passione dinamica ti illustra come e dove divertirti in pista, chiarisce le caratteristiche tecniche della tua monoposto e suggerisce i trucchi per ottenere il rendimento ottimale. Nella sezione speciale Le Ferrari F1 anno per anno trovi infine la rassegna di tutti i bolidi di Maranello che dal 1950 ad oggi hanno preso parte al campionato mondiale di Formula 1. Nel corso della pubblicazione ti offriremo la possibilità di acquistare a prezzo speciale un completo kit di radiocomando, trasmittente e ricevente, perfettamente adeguato alle esigenze del modello. Ferrari F2007 radiocomandata, con motore a scoppio. Vivi le emozioni dei piloti di Formula 1. Ferrari F2007 radiocomandata, con motore a scoppio.